Signore, una cosa se noi accettiamo che noi operi con noi, ringraziare anche l'Obs di questa regione a più livello di Venezia e Giulia. In questi anni sta accendendo un percorso veramente molto buono, molto interessante, molto maturo. Grazie per tutti quelli che operano in questo settore, per l'Obs come cambia. E questo è anche messo a questa nuova organità, uno dei risultati delle maturità di quest'ordine. Continuate con la grazia del Signore. Dite a tutti, a quanto più potente che è possibile con questa spiritualità Francescana trovare grande ricchezza della propria vita. Forse qualcuno attende che altri ne lo comunichino. Grazie anche per questo percorso ai assistenti, in particolare a Padre Aureli, insomma, per lavoro svolto in questi anni, come avete accompagnato il periodo del Obs. Vorrei dire qui che un grazie particolare anche alla parola di questa parrocchia, insomma, è giusto sia o no, non solo per l'os ma per tutta l'attenzione che ha. Fatemi un patinato, dai. Grazie. 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 Grazie.